Il premio letterario Galeazzo di Tarsia è stato istituito dal prologo di Belmonte Calabro nel 1993 sotto il patrocinio della rivista Calabria Letteraria e dell'amministrazione comunale con lo scopo di far conoscere Galeazzo di Tarsia, barone e poeta petrarchista del Cinquecento che ha scritto le sue rime nel castello di Belmonte. Partendo proprio dalle rime del poeta i temi si sono allargati fino ad investire non soltanto tematiche calabresi ma anche europee. Il premio è giunto alla 26esima edizione e il tema di quest'anno è A cento anni da fiume, dalla vittoria mutilata ai nuovi confini dell'Italia. Naturalmente se il premio è giunto alla 26esima edizione dobbiamo ringraziare tutte le personalità della cultura che si sono avvicendate nella giuria e che hanno dato un grande contributo umano e professionale, nonché le varie amministrazioni comunali che si sono succedute e che hanno supportato la prologo. E naturalmente ringraziare i partecipanti che stimolati dai temi che vengono annualmente scelti dalla giuria, fanno ricerche storie o letterarie perché il premio è a carattere storico letterario e presentano dei saggi veramente di grande qualità. Tanto è vero che la prologo per conservarli ha pubblicato i primi dieci anni degli atti, i secondi cinque anni e quest'anno avremo dovuto pubblicare i successivi dieci anni per una serie di problematiche che si sono verificate e è stato spostato all'anno prossimo alla pubblicazione. Quindi non è un premio i cui atti non vengono conservati, bensì diventano patrimonio della comunità.